buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati al corso facile di maglia la maglia di antonella oggi volevo fare un video su un bordo ondulato che mi è stato chiesto da una di voi diciamo che è un bordo ondulato molto semplice un po intrecciato allora devo mettere un numero di maglie multipli di quattro in questo senso e quindi io adesso ho messo 20 maglie ne metterò adesso ne metto qualcuno insieme a voi quindi 24 che sono le mie maglie che mi servono per il coso più 2 di divagno e quindi 26 maglie quindi ho già messo 20 maglie e mettiamo le ultime sei per cui per chi non è pratica si fa metto sei maglie insieme quindi in questo modo ma c'è un video a questo proposito che potete andarlo a cercare come metterne maglie quindi due tre col cappio quattro cinque e sei ok quindi io ho messo 26 maglie quelle che mi servono sono multipli di quattro quindi ho fatto 24 maglie come multiplo più due che userò di divagna a questo punto io devo il primo lavoro anche la mia maglia di divagno all'inizio devo lavorare tutte le mie maglie a maglia legaccio per praticamente 5 g qui cinque ferri quindi la maglia legaccio vuol dire che è tutta la maglia a dritto quindi presa normalmente quindi adesso io faccio questo primo ferro insieme a voi e poi lavoro 5 devo lavorare 5 ferri tutti uguali quindi arrivo in fondo e poi come al solito faccio una un divagno a catenella semplice quindi questo lavoro tutto così a maglia dritto ok giro vuol dire che il primo lo passo senza lavorarlo e poi siccome a maglia legaccio è sempre a maglia diritta quindi sempre in questo modo faccio adesso cinque giri quindi uno l'ho fatto questo è il secondo e quando finito i cinque ci ritroviamo ho terminato i cinque giri e maglia legaccio e adesso facciamo il bordo ondulato ma che è veramente semplicissimo allora come dobbiamo fare allora passo la mia maglia di vivagno senza lavorare e lavoro poi quattro maglia dritto una due tre e quattro a questo punto il ferro dove ho tutti i miei punti cioè il ferro di sinistra lo ruoto praticamente verso di me in questo modo e lo ritiro su l'ho ruotato e rilavoro quattro punti 1 2 3 e 4 e ancora ruoto il mio ferro così verso di me e lo riporto su e rilavoro 1 2 3 4 c'è questo lavoro quindi prendo il mio ferro lo ruoto in questo modo al di sotto e lo riporto sopra e quindi rilavoro quattro maglie devo ripetere 2 scusate 3 e 4 devo ripetere questo meccanismo semplicissimo 1 2 3 e 4 veramente semplice ripasso tutto verso quindi e lo faccio vedere bene passo in questo modo verso di me e ritorno sopra e poi rilavoro le mie quattro maglie due tre e quattro e questo è il mio punto di vivagno che lavoro e a questo punto io ho finito adesso il bordo ondulato un po intrecciato a questo punto è fatto io adesso lavoro a maglia e poi qua si dovrebbe iniziare con il la lavorazione che volete che vi serve per il vostro progetto io adesso lavoro un pochino di maglia rasata per farvi vedere come viene come si nota poi il bordo e poi ci rivediamo quindi io adesso inizio con un ferro a diritto e poi uno rovescio per fare la maglia rasata per farlo vedere ma voi poi potreste fare qualunque lavorazione qualunque punto vi interessa poi ci vediamo quando ho lavorato un po per farvi vedere come è venuto il bordo ho fatto quindi come vi dicevo un pochino di maglia rasata per farvi vedere come viene il bordo se vedete è un bordo ondulato un po intrecciato molto carino ma molto molto semplice lo vedete che può essere usato tranquillamente per un bordo su un maglione ma anche per esempio per fare la fine di una sciarpa insomma o di una copertina perché è una cosa abbastanza particolare ma semplicissima anche chi ha le prime armi semplicemente dritto rovescio e questo si intreccia bene con questo spero che lo vedete spero che anche questo vi possa essere utile e vi dico una cosa allora io l'ho fatto ogni quattro punti perché ho una lana abbastanza grossa che stavo lavorando con lavorata per farvela vedere con i ferri del 4 e mezzo se doveste avere una lana molto fine potete eventualmente intrecciare il giro che abbiamo fatto ogni 5 o 6 punti e chiaramente dovete poi moltiplicare le maglie che voi mettete per 5 o per 6 a differenza del mio che ho detto che era un multiplo di 4 bene detto questo spero che appunto vi possa essere d'aiuto per i vostri progetti vi invito quindi se vi è piaciuto a mettermi un like a condividerlo con chi può essere interessato e come sempre chi non fosse ancora iscritto al mio canale a farlo bene ciao a tutti e buon lavoro